Ciao a tutti. Sono tornato di nuovo a questo altro video tutorial. In questo video ti mostrerò come disattivare la notifica di un contatto su Telegram. Ciao ragazzi, in questo video vi mostrerò come disattivare la notifica di un contatto su Telegram. Ora disattiviamo la notifica di un contatto su Telegram e ti mostrerò come farlo. La prima cosa è assicurarti di aver scaricato l'applicazione Telegram, quindi aprila semplicemente. Una volta aperta l'applicazione Telegram, ti indirizza qui e la prima cosa che farai qui ragazzi sarà aprire una conversazione o toccare il contatto di cui desideri disattivare la notifica, basta toccare il contatto. E ti porta qui, quindi quello che farai qui è toccare il nome del contatto in alto come puoi vederlo. E ti porta qui, quindi quello che farai qui è toccare l'icona della campana come puoi vederla. E poi apparirà questo Tocca costumizza. Ora qui ragazzi, se volete disattivare la notifica per questo contatto, quello che dovete fare è disattivare la notifica toccando Mai, proprio così. Inoltre, tocca Mai sulla storia delle notifiche. E poi dopo quel tocco fatto. E questo è tutto ragazzi, è stato fatto disattivando la notifica di quel contatto come potete vederlo e questi sono i passaggi su come disattivare la notifica di un contatto su Telegram. Grazie per aver guardato.